Ciao e benvenuto su Digital Toolcase. In questo video voglio parlarti delle 13 migliori caratteristiche per me del nuovo Breakdance Builder per WordPress. Come forse saprai, questo è il mio nuovo Site Builder dopo aver utilizzato Elementor e se vuoi vedere la mia recensione completa puoi trovare il link alla mia recensione video qui nell'angolo o nella descrizione sotto al video. Se vuoi puoi provare Breakdance gratuitamente per 30 giorni sul tuo server così puoi vedere se fa per te. Basta cliccare sul link che trovi nella descrizione, è un link di affiliazione quindi ti ringrazio se lo userai perché mi aiuterai davvero a far crescere il mio canale. Ecco quindi le 13 funzionalità che preferisco di Breakdance e che potresti amare anche tu. Numero 1 è facile da usare. Puoi costruire pagine esteticamente molto belle e interi siti utilizzando il drag and drop come si può fare anche con Elementor senza dover conoscere CSS, classi, codice avanzato e così via. Ma se sei uno sviluppatore web e vuoi creare qualcosa di più avanzato puoi farlo. Numero 2 puoi liberarti di molti plugin esterni. Breakdance include già la possibilità di mettere il sito in manutenzione, un pop-up builder integrato, una cache interna per ottimizzare le performance, la possibilità di creare mega menu, condizioni di visualizzazione per ogni singolo elemento, un ottimo form builder e di altre funzionalità che arriveranno. Quindi non avrai bisogno di molti altri plugin per gestire queste funzionalità e il tuo sito sarà più veloce. Numero 3 attenzione alla community. Luis Reingold, il proprietario di Breakdance e lo stesso proprietario di Oxygen, è molto propenso ad ascoltare la community, molto attiva per di più, e ad aggiungere nuove funzionalità o elementi se molti utenti li richiedono. In effetti la roadmap è piena di novità e miglioramenti già previsti e lo sviluppo è molto veloce. Breakdance è nato nell'estate del 2022 e ad oggi le molte release e aggiornamenti hanno già portato questo builder al livello di altri che sono sul mercato da molti anni. Numero 4 velocità. Con Breakdance puoi costruire siti veloci grazie al codice pulito e all'ottimizzatore di prestazioni integrato. Questo farà felice Google, supererà i requisiti delle web core vitals e il tuo sito si posizionerà meglio. Numero 5 puoi utilizzare Breakdance senza alcun tema WordPress o se preferisci anche con il tuo tema preferito. La prima opzione è quella consigliata. Puoi costruire ogni singola parte del sito usando i template, il header, il footer, il blog post template, i template delle pagine, i template di WooCommerce, i global blocks e ogni tipo di template personalizzato, compreso il blog post loop builder. Numero 6. L'integrazione con WooCommerce. Se utilizzi WooCommerce, Breakdance è perfetto, è integrato al 100% e puoi personalizzare facilmente le pagine dello shop e dei prodotti in modo rapido e immediato. Numero 7. La Design Library. È ancora in versione beta, ma puoi scegliere tra molte sezioni ed elementi già pronti, in modo da costruire le tue pagine ancora più velocemente. Presto poi arriveranno altri design. Ti basta selezionare quello che preferisci e aggiungerlo alla pagina. È anche possibile riutilizzare le sezioni personalizzate. Ogni volta che costruisci qualcosa sul tuo sito, questo diventa parte della tua library personale, quindi puoi inserire le tue sezioni in ogni pagina. Puoi perfino copiarle e incollarle da una pagina all'altra o, se vuoi, da un sito all'altro. Numero 8. Le impostazioni globali. Qui si definiscono tutti gli stili globali, i caratteri, i pulsanti, i colori e molte altre opzioni, che verranno applicate per impostazione predefinita a tutto il sito, in modo da essere poi super veloce nella costruzione delle pagine. Ovviamente puoi anche sovrascrivere queste impostazioni in ogni singolo elemento. Numero 9. i Flex Container. Breakdance utilizza i Flex Container per impostazione predefinita. Sezioni, div, colonne, puoi facilmente realizzare progetti complessi senza annidare molti contenitori inutili, per avere così un codice più pulito e veloce. Numero 10. Decine di elementi pronti all'uso che puoi inserire rapidamente nelle tue pagine e personalizzare a tuo piacimento. E se preferisci utilizzare Gutenberg per alcune parti del tuo sito, puoi incorporare i contenuti di Breakdance all'interno di Gutenberg utilizzando il Breakdance Gutenberg Block. Numero 11. Le funzioni avanzate sono facilissime da usare. Con pochi clic puoi costruire un pop-up perfetto e definire ogni singola condizione di visualizzazione. È possibile costruire menu complessi, con colonne e icone. Puoi costruire moduli di contatto standard o complessi, anche condizionali, già integrati con molti strumenti esterni come Active Campaign, GetResponse, MailerLite, Webhook personalizzati e molti altri. Le condizioni per ogni elemento sono a portata di clic ed è possibile gestire anche dati dinamici. Numero 12. Breakdance è perfetto anche per gli sviluppatori. Se sai cosa stai facendo, puoi aggiungere il tuo CSS personalizzato, codice JavaScript o PHP, gestire e modificare visivamente le classi CSS e persino costruire i tuoi elementi utilizzando l'esclusivo Element Studio, al momento in versione Alpha. Numero 13. Se costruisci siti per i tuoi clienti, puoi limitare il loro accesso in modo che possano modificare solo il contenuto del sito, ma non il design. Queste sono le 13 caratteristiche che mi piacciono di più di Breakdance Builder, dopo averlo usato per qualche settimana e sono sicuro che presto arriveranno molte altre cose interessanti. Se vuoi provare Breakdance sul tuo server gratis per 30 giorni, puoi farlo cliccando sul link che trovi in descrizione. E se ti piace ti consiglio vivamente di approfittare della promozione, che però è a tempo limitato. Infatti come utente Early Bird pagherai solo 149 dollari all'anno per un numero illimitato di siti. Non so quando finirà questa promozione, ma credo che valga davvero la pena approfittarne. Spero che Breakdance ti piaccia quanto piace a me e se vuoi puoi guardare anche la mia recensione completa cliccando qui. Grazie mille e ci vediamo presto con un altro video.